Colle torto 24 marzo 2020 non vedo il borgo degli angioini saluto i miei ragazzi e chi mi ascolta. Cade la neve tutta bianca lentamente sul paese. I fiocchi gelidi faticano nel cadere a terra come zanzare, libellule o farfalle. In questa strana quarantena i pensieri di certo sono più liberi. Lassù la montagna è felice, danza il suo spirito divino. Non è in ombra, è bianca e trasparente. Rimpianco il mio cammino mattutino, oggi sul reggio tratturo Celano Foggia. Il gigante verde oggi è orgoglioso perché sa che buoi, pecore e pastori sono ricoverati nelle calde stalle tra Santa Croce e San Giuliano. Su questa strada millenaria San Nicola di Bonefro, Sant'Elena in Pantasia, Santa Maria di Laureto e di Magliano bussano alle porte per pregare. Intanto la bora gelida fischia, ulula sul casale per abbracciare tutta Santa Croce di Magliano. Nel momento in cui regna il coronavirus, in cui tutti quanti siamo buoni e brava gente, la storia ci insegna. Da domani forse tutti metteranno alle loro spalle. Speriamo che questo non accada più.